C'è anche una consigliera comunale di Sulmona nell'elenco dei nuovi positivi in centro Abruzzo. Nella giornata di oggi sono arrivati infatti gli esseri dei tamponi svolti lo scorso lunedì e la sorpresa dell'ultimo minuto non è tardata ad arrivare. Il contagio non concede una tregua nemmeno l'ultimo dell'anno. Sarà un capodanno in isolamento per 35 persone domiciliate nel centro Abruzzo, 15 a Sulmona, 5 a Prato-La Peligna, 4 ad Alfedena, 3 a Cassel di Sangro, 2 a Pettorano-Sugizio, 1 ciascuno a Molina-Terno, Opis-Canno, Ateletas, Controne, Pacentro. Tra i 15 contagi sul Monesi c'è anche quello della consigliera comunale che si era sottoposta al tampone molecolare nei giorni scorsi dopo il contatto con un caso Covid nel suo ambiente di lavoro. Il virus continua quindi a fare breccia a Palazzo San Francesco. Anche per questo ieri la seduta del Consiglio Comunale si è svolta in modalità mista. Altri due positivi sono stati accertati con il tampone rapido dell'ANA su un totale di 70 test effettuati. La ripresa del contagio dopo la tregua dei giorni scorsi non è dovuta all'effetto natale secondo gli addetti lavori, ma i 176 tamponi svolti lo scorso 28 dicembre eseguiti su una serie di casi tracciati. Gli attuali positivi sono 798, di cui 376 a Sulmona, un numero che continua a scendere, al pari dei 1.176 sorvegliati nell'area Peligno-Sangrina. Non sono permesse però distrazioni di sorta con il capodanno alle porte, il contagio che si stabilizza ma non cessa e i controlli a tappeto disposti. Intanto, a differenza della fase iniziale e della seconda ondata, l'attenzione e in parte l'emergenza si spostano nel nuovo pronto soccorso, dove sostano i pazienti in attesa del tampone molecolare. Negli ultimi giorni si è deciso di sottoporre al test tutti gli utenti, anche quelli che hanno un rapido negativo per fugare il dubbio e procedere con il ricovero in tutta sicurezza. Si rischia però di provocare l'intasamento del sistema in mancanza di un'area grigia o delle stanze a pressione negativa nei vari reparti. È il caso di attrezzarsi per il proseguio della pandemia. Nella mappa degli attuali positivi vediamo Sulmona 376, Pratola-Pelinia 63, Pescasseroli 49, Castellisangro 46, solo per citare alcuni centri.